E' romaniolo però sento che la collina è una cosa e sento pure che è pratico perché ha dato tutte cose che ci ha azzeccato, non è scappato niente, non è ignorante in materia, non è ignorante, non è ignorante, i miei complimenti. Ho visto che ha colpito subito due retrettasti, pinoli, uvetta, salvinaccio, un mio amico che si toccava a fare frati. Andreo che quanto costano i pinoli? 36 euro al chilo più? Ce li metti? Non ce li metti? Noi domani sarebbero a spinare, ma no perché dovresti essere lì insomma, vivi a domantina. E poi fai la 10, sempre nella binaria. Ma questo si tratta di fare lo zappaione. Oh, ma buoni? Così sono i cittadini, però se li accompagni con gelato, con la lì, mi pare lo zappaione. Se ne rama lo zappaione invernale, poi ci sarò. E' un pochino con limone e con l'aranco. Dai, ti chiamo domani e ci vediamo, ok? Grazie.